Musica Cosa pensi del Cleto Festival tu che sei nello staff e ti occupi della vendita del merchandising? Allora, il Cleto Festival è come se fosse una seconda famiglia, ormai ci ha accolte e infatti io e Michela non siamo cletesi ma io vengo da Pianopoli, lei invece abita a Gallo che è una frazione di Campora, giusto? O di Avantea quindi pensa tu, noi che non siamo cletesi abbiamo abbracciato questa grande festa proprio perché qui ci sentiamo sempre a casa E ultima domanda, veloce veloce, queste magliette che sono praticamente diverse una dall'altra e ogni anno ci sono dei temi nuovi, vanno a ruba? Sì, infatti come puoi vedere il banco è quasi finito proprio per questo diciamo che le persone che vengono al Cleto Festival amano portare con sé un ricordo oltre appunto a vedere i vari spettacoli comprando una maglietta avranno con sé sempre un pezzo del Cleto Festival A questo punto ti chiedo soltanto di farci un saluto dal Cleto Festival anzi di farcelo insieme Alzati bella ragazza anche tu, dai va bene, ciao a tutti, vi aspettiamo alla prossima edizione Grazie 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 Santissimo